Ciao a tutti ragazzi, sono Loze e in questo decimo video di Hardest Game Ever 2 vi farò vedere il decimo livello. Come potete vedere c'è una novità, cioè ho 15S e me ne manca una per sbloccare la Insane. Questo è il livello 10, corse folle al jackpot. Dovete seguire le istruzioni che vi dà. Per un soffio non ho fatto S, comunque 8 e 18. Ora ci voglio riprovare giusto per vedere se riesco a fare S. Siccome il mio record è mi sembra 7,29. Riproviamo. Ok. Ok, fatto S e al pelo perché 8 secondi era S, però il mio record mi sembra che sia un po' meno. Ci vediamo al prossimo video per il video 11 e ciao a tutti. Ok. Ok. Ok.